Io sono un medico che tra i tanti privilegi ho avuto il privilegio di stare negli Stati Uniti quando hanno descritto il primo caso di AIDS e questo per me è stata una specie di imprinting perché ha cambiato un po' la mia visione della medicina e soprattutto e mi ha accompagnato nella mia vita professionale ma oggi parlerò fondamentalmente di questo nuovo concetto della salute globale e del fatto che esiste esistono nel mondo delle terribili diseguaglianze in termini di accesso alla salute ma partiamo dall'inizio allora questa questa diapositiva vi fa vedere la curva straordinaria la crescita dell'aspettativa di vita a partire dal novecento. Attenzione queste sono medie c'è qualcuno che sta sopra e qualcuno che sta sotto e ci sono anche le differenze tra continenti ma certo è stata una crescita straordinaria e uno si dice ma com'è successo tutto questo? Beh diciamo che il primo motivo vero quello anche dei primi è l'acqua pulita. L'acqua pulita ha cambiato la storia e la vita e la salute di tante persone quindi l'acqua pulita è stato un determinante essenziale all'inizio proprio all'inizio del novecento quando è arrivata e poi certo i cambiamenti socio economici perché voi sapete che la salute non è solo un fatto biomedico no è legato anche al fatto di dove uno vive come mangia che lavoro fa e quello conta moltissimo e quindi sono migliorate queste condizioni quindi anche l'aspettativa dei vita è cresciuta e poi certo anche i progressi della medicina che soprattutto negli ultimi tempi hanno funzionato soprattutto nel comprimere verso l'età più avanzata le nostre patologie qui c'è il buon vecchio jener anzi il giovane jener che ha scoperto il vaccino ci abbiamo messo 200 anni a farlo fuori però insomma comunque i progressi ci sono stati. Questi progressi non sono stati equamente distribuiti ecco questo è il problema è che tutte queste cose belle non arrivano non sono arrivate a miliardi di persone la salute globale è una branca diciamo della medicina che si occupa proprio di lottare contro le diseguaglianze partendo dal fatto che ci sono 20 o 30 milioni di persone che muoiono ogni anno per malattie che sono prevenibili e curabili quindi muoiono non dico inutilmente ma insomma muoiono purtroppo a causa delle diseguaglianze e si tratta di milioni miliardi di persone che vivono in queste situazioni che ce ne abbiamo sei in totale ma almeno due miliardi vivono sotto il livello che tutti ci aspettiamo allora io prima di anzi per aiutarvi a spiegare il concetto di salute globale voglio far vedere che cosa non è la salute globale perché così lo capiamo meglio allora questo è un vecchio articolo che avevo scritto nel 2000 figuriamoci in cui il concetto è questo che la salute non è uguale per tutti e guardate qualche diseguaglianza questa per esempio è l'aspettativa di vita in buona salute perché noi non è che vogliamo vivere per sempre vogliamo vivere in buona salute ecco vedete quelle aree più chiare a parte qui l'europa e quanta gente ha un'aspettativa di vita in alcuni paesi raggiunge il 50 per cento manco gli etruschi stavano messi così e e poi guardate questa questa fa veramente impressione questa la mortalità materna per parto in africa una donna su 20 more di parto durante la sua vita qui quando succede è un disastro giustamente ma lì è normale si muore di parto e vedete quanti paesi quelli colorati ed hanno una mortalità materna intollerabile poi la vaccinazione i bambini metà bambini del mondo non sono vaccinati stiamo parlando qui della lifterite tetano stiamo parlando dei nuovi vaccini e poi certo la tubercolosi la malaria l'ice di cui parlerò un pochettino dopo beh certo queste qui stanno sempre lì stanno piazzate in quei in quei paesi lì e guardate questa interessante questa è la mortalità prematura per le malattie croniche cioè il diabete l'ipertensione quelle che abbiamo qui nei nostri nei nostri lidi ricchi diciamo ma vedete dove muoiono le zone rosse le zone più scure dove si muore ma lì non ce ne avevano di meno sì ma lì si muore e quello che ho detto altro giorno a questo mio amico dico se mi piglia un piccolo infarto qui sul palco probabilmente qualcuno mi raccoglie mi porta a comodo e mi stappano una coronaria quando vado in africa a volte me lo domando dico certo se mi piglia un infarto qui ci rimango e questa è la diseguaglianza è che lì non hanno accesso ai servizi e alle cure che abbiamo qua e attenzione non si tratta soltanto del sud del mondo perché molti dicono beh sono qui i poveri no guardate questo è il trenino di geppo costa geppo costa è un grande epidemiologo di torino che ha studiato la popolazione di torino negli anni e se uno segue il percorso del tram dalle colline ricche fino alla zona operaia ci perdono sei anni di aspettativa di vita e queste diseguaglianze stanno a torino e non parliamo delle diseguaglianze di aspettativa di vita che abbiamo tra nord e sud italia mi dici ma qual è il motivo di tutte queste diseguaglianze beh certo un po bisogna dire la verità è la globalizzazione un po selvaggia che c'è stata perché non c'è dubbio che la salute è legata alla povertà i poveri muoiono di più e ammalano di più per tanti motivi e effettivamente la globalizzazione ha portato pure un po di crescita ma in modo terribilmente disuguale un per cento della popolazione mondiale c'ha praticamente tutto in mano e non c'è dubbio che questa selvaggia globalizzazione ha peggiorato anche la salute delle persone vedete questi sono i ricchi questi sono i poveri e fondamentalmente tra l'altro e di questo si occupa la salute globale noi ci occupiamo soprattutto dei più marginalizzati quindi a partire dai poveri questo è un homeless ma i carcerati pensate che cos'è la salute dentro le carceri di tutti i paesi ma in alcuni tra l'altro è una cosa devastante e poi anche le donne che lavorano anche i lavoratori del sesso come si dice ma i tossicodipendenti che sono marginalizzati perché incarcerati e poi le persone che vivono negli slums voi sapete che c'è un miliardo e mezzo di persone che vive negli slums vi rendete conto di cosa può essere la condizione di salute là dentro e poi tutte le persone le persone che si sono dovute spostare non stiamo parlando soltanto dei migranti ma anche di quelli che hanno dovuto cambiare il paese e quindi queste sono le persone che stanno peggio e poi le donne perché le donne vedete questa diapositiva in alcuni paesi del sudafrica il 50 per cento delle donne giovani sono seropositive ma certo non è perché il virus dell'hiv al virus del più le piacciono le donne giovani è semplicemente che queste donne non hanno gli strumenti culturali e di potere per proteggersi adesso abbiamo parlato di AIDS e vi ne parlo un attimo perché in realtà è un po' stata la mia passione della mia vita ci ho lavorato tanti anni ed è una cosa positiva stavolta che voglio dire perché noi l'AIDS lo usiamo un po' come modello per combattere le diseguaglianze allora la storia è lunghissima ma la racconto in tre minuti allora un virus un giorno passò da una scimmia all'uomo erano gli anni venti poi si è fatto un gran giro per il mondo ma rapidamente soprattutto a partire gli anni 50 è andato in giro non c'è paese che non abbia casi di AIDS quante persone sono morte di AIDS finora in pochi anni dall'ottanta quando è stato più o meno descritto nei paesi occidentali 40 milioni di persone sono morte e altri 40 sono vivono oggi con questa malattia a un certo punto negli anni 80 e io io sta ero la l'AIDS è diventata la prima causa di morte dei giovani ci ha messo un attimo la prima causa di mortalità dei giovani e vedete vi ricordate quanti attori quanti personaggi famosi morivano di AIDS questo è il rock arts poco prima di morire poi è successa una cosa straordinaria abbiamo collettivamente messo a punto una terapia era il 96 quindi ci abbiamo messo un po' però questa terapia ha fatto una cosa che a me mette i brividi io quando vedo questa di positiva ancora mi vengono i brividi perché come medico avendo visto tutti i miei pazienti morire uno dietro l'altro quando è arrivata questa terapia vedete la curva rossa questa è la declino della mortalità per AIDS diciamo che da un certo punto non si moriva più di AIDS beh è stata una cosa che per un medico è fantastica ora questa cosa e vedete non sono solo i numeri è questa una bambina che stava lì morendo e dopo sei mesi era è la stessa bambina è la stessa bambina allora questa cosa è avvenuta nei paesi ricchi che si potevano permettere di pagare questi farmaci costosi e nell'anno 2000 la situazione invece era questa che la vedete la curva rossa sono i morti per AIDS in Africa e quella blu sono i morti da noi vedete come bassina perché appunto non si moriva quasi più e allora io vedete anzi vedete anche l'impatto che aveva questo sull'aspettativa di vita avete alcuni paesi africani hanno perso 30 anni di aspettativa di vita a causa dell'AIDS io ho avuto anche un altro grande privilegio che nel 2000 mi hanno eletto presidente di questa società mondiale dell'AIDS e a un certo punto mi è venuta un'idea dico ma perché non portiamo la grande conferenza roba da 20 mila persone in Africa diciamo ma impossibile mi hanno criticato aspramente non verrà nessuno hanno paura di starci poi e invece è stato un successo clamoroso perché sono venuti in migliaia sono venuti i giornalisti 1300 e poi c'era lui questo era un uomo di un certo livello e naturalmente la storia cambiò è cambiato perché da lì da Durban è cominciata la grande battaglia per l'accesso ai medi alle medicine e alle cure che è continuata l'anno dopo è stato creato il fondo globale che sapete porta i soldi dei paesi ricchi per ai paesi povri per sconfiggere non solo la tubercolosi e la malaria ma anche l'AIDS e effettivamente vedete oggi abbiamo 20 milioni di persone nel mondo che prendono i farmaci antiretrovirali ecco questo già vi fa capire perché l'AIDS è da considerare un modello per combattere le diseguaglianze di salute non solo poi perché ha messo insieme un sacco di gente diversa gli scienziati Kofi Annan ma anche le chiese gli economisti con un obiettivo di sconfiggere una malattia globale la prima malattia globale della storia quella che avevamo visto qui e stava anche giù e poi ha fatto abbattere il costo del prezzo dei farmaci questa è stata una battaglia diciamo adesso detta così sembra semplice ma il fatto di riuscire a portare i farmaci generici in tutta l'Africa in tutto il sud del mondo è stata una battaglia pazzesca ma è successo e quindi questa è un'altra dei modelli fantastici vedete questo è l'impatto adesso quella curva della mortalità sta andando giù pure in Africa e stanno risalendo le aspettative di vita vedete come portando i farmaci dal 2000 ecco che stanno risalendo l'aspettativa di vita di quei paesi quindi l'impatto c'è è vero non è finita è la storia dell'AIDS perché lui ancora gira ci vorrà una cura ci vorrà un vaccino però però è stato fatto tanto è stato fatto è stato un modello che noi prendiamo per 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 parlare di salute globale ora questo che cos'è questa bestia qui questo ebola vi faccio vedere questo soltanto per spiegare che in un mondo veramente così globale così interconnesso con fenomeni migratori di portata epocale con gli aerei con ma come possiamo pensare di risolvere i problemi di salute solo a casa nostra come possiamo non pensare che per che occuparsi della salute di tutte le persone che vivono su questa terra non sia anche promuovere la salute dei nostri figli delle nostre generazioni quindi ecco questo è il concetto della salute globale oggi abbiamo degli obiettivi straordinari che sono stati firmati da tutti i paesi della terra poi vediamo se ci arriviamo però sono 17 grandi obiettivi dalla lotta alla povertà alla fame all'ambiente e il numero 3 di questo obiettivo è quello della salute ecco questo obiettivo della salute ci dice che noi dovremmo andare verso la copertura sanitaria universale cioè il fatto che tutti gli abitanti della terra abbiano accesso alle medicine ai servizi sanitari primari per quel motivo che dicevo prima perché in un mondo così globale è impossibile non pensare alla salute come qualcosa di universale globale ora questo è un bellissimo obiettivo è un po un'utopia come però ci stiamo andando per questo quello che è stato fatto per lights non lo consideriamo una specie di piccolo modellino di sforzo collettivo verso la salute di tutti ecco questo è un faro un faro che come sapete può essere usato da qualsiasi navigante per raggiungere il porto ecco questo qui si chiama bene pubblico questo è un bene pubblico come l'aria che respiriamo come l'acqua dei fiumi i parchi sono cose che tutti possono usare chiunque può usare e usandolo non lo sottrae ad altri questo è il concetto di bene comune di bene comune e di bene pubblico e noi pensiamo che la salute e l'accesso ai farmaci debbano essere considerati e dovranno essere considerati come dei beni pubblici a cui tutti possono accedere indipendentemente da dalla ricchezza del paese in cui si trovano vi ringrazio grazie 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 grazie